Salve ragazzi, oggi siamo qui in questo nuovissimo video Io sono Marduk e oggi andiamo a fare una nuova modalità sul mio canale Sono le Lucky Reads Innanzitutto vi annuncio che presto arriverà il video con Emanuele Gamer E se non sapete cos'è, non so che sono le Lucky Reads Sono praticamente delle corse con i Lucky Block E io vi dico che sono skillato Almeno quando giochiamo con Emanuele e Lupom Iniziamo con due persone Presto, come abbiamo già detto, arriverà il video su FIFA Sto organizzando ancora tutto, ci stiamo organizzando per quando incontrarci Stiamo organizzando una cosa per fare anche qualcosa di carino E i montaggi Sto per iniziare la partita ragazzi Tra 45 secondi Ho detto saluta di Youtubber Mi hanno detto Hi, Ciao quindi paolo xd e skinner x ter iniziano cioè è pure rick master 368 vi saluto anche a voi e comparirete nel video poi si parte ah buono e poi poi andiamo come dei fulmini allora dobbiamo render per l'assie togliamo da qua ancora mi scappa il destro e mi incazzo prendiamo la spagna di diamante non si sa mai sto andando veloce almeno uuu corazzo allora ci facciamo una scala qui così almeno mica esplode ok aspetta vai ci mettiamo black qua vai prendiamo i dispenser ok andiamo vai con l'acqua di vinito oh no che pezzo di merda però dai no non si fa così non si può fa così non si può fa così dai dai toglietevi no chi mi ha dato fuoco non mi date fuoco chi mi da fuoco è corinto oddio abbiamo quattro livelli c'è c'è qualcuno che mi guarda malissimo e vabbè quello ha così finito sei fortunato non è successo nulla eh non mi ritengo fortunato va ok mi va qua scusa villager vai dove andare con i polmini andiamo oddio ah non fai c'è con due colpi ammazzo no che pezzo di merda c'è tutto qui del cazzo vai vai no non vince questo è il problema intanto vai 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 dove non credo no no espone non è poi così fortunato vai oh merda vai no quello ha finito che schifo che schifo al cacchio oh zio che ne devo salire no 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 parco di merda oh dio parco di no ok dai andiamo andiamo oh vai vai no 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 oh oh my god oh 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 ho finito prima ho finito prima ho finito prima è arrivato prima alla fine complimenti gg non posso scrivere si grandissimo partita finita vinciteci sono The Tiger troppo forti troppo forti gg salutate il tubo ciao hanno salutato Omar non penso che ce l'abbia con me perché è infatti ciao ce l'abbia con un altro ciao tutti ringrazio tutti quelli che stanno salutando e comparirete nel video dopo magari dico che come si chiama il canale così si vanno a rivedere gg vai corri vai 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 oh che ho visto ricorda 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 no vai vai no si va a perdere questo è un pubblico no non è mai vero ah è un piccone vai sto spaccando tutto è un po' spacco per il culo i carciofi vai no non dobbiamo perdere tempo non dobbiamo perdere tempo chi non dobbiamo perdere tempo sono tipo P questi questi è F vai devi correre dai no corri 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 devo correre non spacco mai laki devo correre corro corro vai vai un po quattro spugne e quattro vai fuori oh 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 comunque ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su se volete altri video presto arriverà ve lo prometto il video con Emanuele Ghiner e noi ci sentiamo alla prossima ciao ragazzi